La prima al teatro alla Scala di Milano, la cena di gala firmata a Bartolini, la cena delle maestranze e tutti i servizi e al presidente Mattarella e negli spazi museali del teatro sono stati affidati a Caffè Scala. Per noi è un grande evento soprattutto quest'anno che festeggiamo il decimo compleanno e come tutti gli anni cerchiamo di portare in tavola quello che è l'ultimo atto dell'opera. La cena di gala è questo evento molto importante in cui si crea un evento sartoriale in cui anche gli allestimenti delle tavole, le scenografie rispecchiano un po' quello che è il palcoscenico. Per questo evento tra sommelier, camerieri, chef sono circa 100 persone che lavorano ininterrottamente da due giorni. Abbiamo tirato fuori le nostre credenze, le nostre argenterie, il vasellame di porcellana fine e tutti i bicchieri decorati in oro. Tutto questo per richiamare un po' l'opera la Tosca. Oltre alla cena di gala alla società del giardino organizziamo dei servizi nel palco reale per il presidente della Repubblica, poi altri servizi nel museo teatrale alla Scala. E gran finale abbiamo la grande cena per tutte le maestranze che saranno circa 500 invitati. Ci integriamo poi in quello che è la scenografia dell'ultimo atto dell'opera e in tempi di record montiamo questi buffet, i nostri chef allestiscono le cucine per dare un servizio impeccabile come sempre. I nostri chef hanno estrapolato dall'opera un po' quelli che sono i punti più importanti e quindi è stato fatto un grosso richiamo a Roma, a Castel Sant'Angelo e a Napoleone, che sono due spunti dell'opera che sono stati presi in considerazione dai nostri chef. Pertanto serviremo appunto un cacio e pepe romano che è un tipico piatto che Puccini amava gustare e poi faremo un pollo alla Marengo in onore di Napoleone. E poi naturalmente faremo un richiamo alla grande Milano col panettone classico e tutte le varie dibattezze. Dietro il palcoscenico impieghiamo oltre 60 persone, tra cui ci saranno sommelier, ci saranno appunto i nostri chef e tutta la brigata di sala.